Ida e Alessandro Ida e Alessandro Pazzo! ha esclamato emozionata Ida mostrando ai fan i due biglietti per Miami. A emozionarla ancora di più è stato il biglietto che Alessandro ha legato al pacchetto. Ho sempre detto che i viaggi li vivi tre volte, quando li sogni, quando li vivi e quando li ricordi. Io oggi li voglio sognare, vivere e ricordare con te. Grazie a tutti!